Vegeta Che po' so curioso di sapere Che cosa useranno come art dell'SSR Che al 100% sarà più bella di questa Perché quest'artwork Sembra veramente l'artwork di un Rare Salmon Infatti lo è Praticamente è la versione Migliorata Di Vegeta Int Buffer Leader Namek Saga Gifted Warriors E signore e signori Finalmente Il leader 170 Tanto atteso In Newman Deeds E chi se Chi altri se no Perché fino ad oggi Newman Deeds Ce l'avevano per l'appunto Napp e Vegeta E quindi per forza di cose In Newman Deeds 170 Doveva essere Vegeta Ok Con 30% Ai Seeker Ai Purseyan I Purseyan I Purseyan Di sicuro Di sicuro non becca la 200 di questo Vegeta In Gifted C'è C'è Broly Ok E chi se lo ricordava Gifted Vabbè ci sta Vabbè ragazzi Ma fino a ieri Che non c'era Lezza dei Bimbi Fisici Chi cazzo L'ha mai cagata Alla category Gifted E infatti Proprio perché Proprio perché Esistono i Bimbi Fisici Che sono Mega Aop Di sicuro Non pullerei Vegeta Per rannare Il Gifted Warrior Meno che Per in una Mac Saga Perché tanto Quasi certamente Quando andranno a Dezza Quei due Dei KKK Sti cazzi Di Vegeta E quindi Io dovrei pullare Vegeta Per finalmente Rannare In Human Diz Giusto così Angelo Anche perché Se trattano una Mac Come è stata adattata Universo per la saga Su PG Fa la fine Degli Android Int Che manco Nientrano più Ma guarda che È già così È già così È già così Cioè ma Col senno di poi Per quello che Diventerà La categoria Di una Mac Saga Con i vari Ezza Ma dobbiamo Vedere se Questo Vegeta Riuscirà A prendersi Un po' di spazio Vediamo Vediamo Per il momento Per il momento Sì chiaro Perché comunque Il team Fa abbastanza pena Cioè io Mi aspettavo Veramente qualcosa A tema Che si collegasse In qualche modo A Damo Non mi aspettavo Il PG di Daima Ancora prima Che uscisse La serie Ma mi aspettavo Qualcosa Che potesse Quanto meno Avere un feeling Con Daima Che feeling C'ha Vegeta Che fa esplodere Cui Con Daima Un cazzo Quindi Lasciamo Powder Lasciamo Powder Entranza Animation Che ci darà Chi più 3 Attack and Death 180 Per il resto Della battaglia Ma solo Se il nemico Uno solo Poi abbiamo Attack and Death 50% Per ogni orb Per un massimo Di 500 Si sono cagati Addosso Si sono cagati Tutto Hanno limitato Questo Kissfare Per un massimo Di 500 Quindi Con 10 orb Abbiamo maxato 10 orb Attack and Death 500 Cambia randomicamente Le orb Escruse Le agl Perché la carta E agl In rainbow Riduzione del danno Del 30% Chance Di evadere Del 18 Quindi se prendiamo Un orb agl Abbiamo 18% Di evasione E 30% Di damage Detaction Oppure dobbiamo Prendere 5 orb Ok Fin qua Ci sta Più un'addizionale Chance Di evadere Del 30% E un'addizionale Damage Detaction Di 18 Sostanzialmente Le percentuali Di prima Invertite Quindi 30% Di evasione E 18% Di damage Detaction Quando attacca Quindi Post Special E Gli HP Sono 50% Superiori Lancio un additional Special Garantito E invece Se gli HP Sono sotto Il 50% Un'addizionale Difesa Ok Un'addizionale Difesa 50% E alta chance Di grittare Per il prossimo Turno Ah ok Quindi Alla fine Del turno Se siamo sotto Il 50% Di HP Al turno Seguente Avremo Alta chance Di grittare E 50% Di difesa In più In teoria Questa difesa Qua però Si calcola Separatamente Che dopo 5 special O di più Cambia tutte Le orb In orb AGL Che gli serviranno Più che altro Per 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 Refullare Gli HP Se il massimo Se il massimo È 500 H&F Con 10 orb 23 orb Gli serviranno Più che altro Per Refullarsi Gli HP Oppure Sfruttare Un altro PG Volendo Non è Esatto Valutare Questa cosa Angelo Comunque Sto Leggeta Guardando L'anno Scorso Prende Lo slot Post KK Di Tarles Più Gogo Albero Per Il global Gli android Int Più Libri N Quindi Una leggenda La seconda Parte Non sarebbe Assurda Zabor Confirmed Sì No Ma La leggenda Ci sta Sicuramente Il problema È Chi fanno Che Cazzo Devono Fare Per Non fare Zarborn Devono Fare Gohan No Nail No Però Potrebbero Approfittare Per fare Ledger Nail Effettivamente Piccolo L'R Fuso Con Nail Wow Ma Ecco Questo Mi potrebbe Far godere Piccolo Fuso Con Nail Mi potrebbe Far godere No Ragazzi Non me Le dite Queste cose Perché Poi Se si avvera Se si avvera È un casino Piccolo Fuso Con Nail Se si avvera È un casino Lacti Skill Massive Resa Attack Ultimate Damage E 50% Di attacco Per il resto Della battaglia Questo è buono Si attiva Dopo 4 special Ok Quindi dopo 4 special Abbiamo questo Questo boost Allora Tasto dolente Di questo PG Che può essere Positivo Per alcune cose Molto negativo Per altre Il buffer Che rappresenta Lo stesso personaggio Ovvero Vegeta Int C'ha BBB Questo no Quindi Vabbè Non ha BBB Peccato Però C'ha un link Ben più Comune Che è Prepar4Battle Quindi Diciamo Che se vogliamo Dare una spiegazione A questo Vegeta Che perde BBB Per Prepar4Battle Perché è in Redenzione E in quanto tale Non è più Il cattivo Ma non è vero È una stranzata In questa saga È un pezzo di merda Comunque SaiyanWarrior Raceroy Allineaggi Prodigy Brutal Biddown Saiyan Lineaggi Prepar4Battle FiestBattle Alla fine Sono i link Di un Vegeta Qualunque Tranne per Brutal Biddown Cioè a sto punto Levavano Brutal Biddown E lasciavano BBB Però vabbè Le categori Allora Namek Saga È fin qua Gifted È fin qua I New One Deeds È fin qua Sono le tre categori Di cui è anche Leader Seeker Perché cerca Le sfere Ci sta Ed è Una delle categori Che è a cui Dà il 30% Purseyan Vabbè È un Vegeta È Purseyan Di cui Dà il 30% È un Vegeta Quindi Vegeta Family È un distruttore Di pianeti Quindi Planetary Destruction E basta Ragazzi In questo Vegeta Nonostante Arrivi su una Mech Dopo anche Un incredibile Viaggio Da moribondo Nella Sua Poz Non è uno Space Starling Warrior Questo Vegeta Che uccide Letteralmente Un intero Villaggio Di Namecciani Non è un Telefilm Con Gueros E chiaramente Essendo Vegeta Cattivo Gli mancano Tutte quelle Belle Categorie Che invece Ha Vegeta Quando diventa Buono Quindi È un Vegeta Family Perché è un Vegeta Ma tutte le Altre Categorie Non le ha Perché chiaramente Non è né carne Né pesce Quindi È un po' È un po' Un peccato Non abbia queste Due categorie Distruttore di pianeti Con il pensiero Visto che Non avendo Space Traveling Non può aver viaggiato Per distruggere Allora Il Sì sì A parte il meme Io Stamattina Per scherzare Ho cercato Di dare Una spiegazione Alla sua Mancanza Di Space Traveling Warrior Ragazzi Sto per dire Una minchiata Lo so Ma è per scherzare Però Nello scherzo Potrebbe Potrebbe Nascondersi La verità Nel senso Non la mia verità Ma quella Che forse Sta nella testa Dei Dei producer Perché Per quale Cazzo di motivo Questo Vegeta Non è Space Traveling Warrior Rispetto a quello Sulla terra Perché quello Sulla terra Della Saiyan Saga È Space Traveling Warrior Questo non lo è Perché Non è più al servizio Di Freezer In questo momento Della saga Anzi È indipendente Basta Non trovo Nessun'altra Spiegazione Gli hanno messo Pride Solo perché Così rientrano Nella leader Di Broly Se no Neanche quello Gli avrebbero messo No vabbè Lo era Lo era anche Il buffer Vecchio Il problema Il problema Sai qual è Che pure Quello vecchio Non era Space Traveling Quindi Cioè Vegeta di questo Momento Della saga Ce l'ha sempre Avuto questo Problema Ma io Mi auguravo Mi auguravo Che Facendone un altro Non commettevano Lo stesso errore Perché per me È un errore È una cazzata Che questo Veggie Non sia Space Traveling Warrior Almeno quello Voglio Voglio capire Che non è T4 Conquest Anche se Goku Nama è che Space Non penso Che comunque Space Traveling Warrior Cioè Non è che 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 Goku Viaggia Nello spazio Per conquistare I pianeti Lui si È il suo Mestiere Tant'è Vero Che anche Tarles Nonostante Non sia più Ai servizi Di Freezer E si è creato Un esercito Suo E Space Traveling Space Traveling Warrior Quindi Decade il discorso Che facevo prima È per memare Dokkan è incredibile Nel dare Non dare Certe categorie Tipo Gones TR Nuovo Che Mg Busag Bravo E poi I bimbi fisici Invece Non lo sono Vai a spiegare Perché Leggi Sopra la spiegazione Vediamo se Michele Ha una spiegazione Più accurata Allora Dando le dimissioni Non ha più Il pod aziendale Ha senso Non ha mai Non ha neanche mai Dato le dimissioni Cioè Si è proprio Si è autolicenziato Da solo Si è Se ne è andato in ferie Non ha dato le dimissioni Ultima cosa da vedere Special Great Race Attack Kaioken E anche difesa Solo che Kaioken All'attacco 50% Race Defense Molto probabilmente Sarà 20% Allora Partiamo dal presupposto Che non ha delle stats incredibili 11388 di attacco Quindi ability free È un 13000 attacco Difesa 6280 Quindi vuol dire Che ability free È 8280 Insomma Calcoliamolo free Per I temerari Che Pulleranno E se ne Si porteranno a casa Una copia Oppure per i temerari Che addirittura Faranno il pity Visto che Probabilmente Questa batch Avrà il pity Anche per i Doc and Fest Singoli Dovrebbe essere Insomma La novità 13388 Per 5 Per 1.5 Per 1.65 Abbiamo detto Dai link Per 180 Attack and Def Poi Il 50% Per orb Si addiziona Non è Da calcolare Separatamente Vabbè Diciamo che Alla fine Riusciamo a prendere Queste 10 orb Che non è Così impossibile Vabbè Diciamo che Alla fine Riusciamo a prendere Queste 10 orb Che non è Così impossibile 680 Quindi se Prendiamo 10 orb Abbiamo 680 Quindi per 7,8 Ci calcoliamo Dopo L'acti skill Quindi All'inizio Della battaglia Immensa D'amici Sa 10 505 Grit race Attack Kaioken Ok Quindi per 5,85 7 milioni e mezzo Prima special Con 10 orb Anche free Ci potrebbe dare La possibilità Di fargli lanciare 3 special Poiché Kaioken 50% Se in quel turn Abbiamo preso 10 orb Lanciamo un add E potenzialmente Ne può lanciare Uno di ability Possiamo fare Con un add E sono 8 milioni e 2 Se fa L'ability E fa 8 milioni e 8 Quasi a 9 Vabbè Sono 8.852 Ok Quindi in un turno Può arrivare A queste stazze qua I kk Ce n'ho abituato male Questa era la normalità Vabbè no Ma in realtà Guarda che Allora il problema Se qual è Che parte l'ed Poi Una volta che hai fatto Le 4 special Perché questo Deve fare 4 special Quindi i primi due turni È questo E che ti potresti Anche sfigare Ok Sfighi e non riesci Però in due turni In genere In due turni Riesci a fare Tutte e quattro Le special Che ti servono Per attivare L'active Una volta che hai attivato L'active Turno dopo Sempre sul Se prendiamo Nuovamente 10 orb Perché Il fatto è che Noi abbiamo calcolato 10 orb Se non le prendi Insomma 10 Non so Non so Proprio semplicissimo Anche se si cambia Le orb in rainbow Non è semplicissimo Prendere 10 orb Ammesso Che anche al turno dopo Prendiamo 10 orb 9 milioni e 4 Con un add 10 milioni E 144 Non è semplice Perché comunque Bisogna giocarlo secondo In quel caso Bisogna stare attenti A quante orb Prende quello prima Anche Sì sì Anche Quello prima Potrebbe tranquillamente Diventare Goku Tra l'altro Potrebbe tranquillamente Diventare Goku Namek Goku Namek KK Probabilmente Adez diventerà Un BD da primo slot Mettiamo caso Tu voglia giocare Doppio Vegeta In un turno Puoi mettere Broly Broly Tech A tankare Al secondo turno Metti Broly Int Ci sta Per ora Insomma Poi quando Quando si parla Di Planet Namek Saga Probabilmente Goku Namek KK Diventerà Pg da primo slot Oppure Te ne dico un altro Gifted Warrior C'hai Vegeta God Del sesto anniversario Vegeta Evo Sesto anniversario Lo puoi mettere Ancora Pg da primo slot Tranquillamente Dal turno dopo Attiviamo Lacti Skill Che ci darà 50% di attacco Per il resto Della battaglia Sempre ammesso Che prendiamo 10 orb Però Già più probabile Perché poi Da quel turno in poi Si cambia anche Le orb In AGL Quindi Andremo a fare Per 1.5 17 milioni Diciamo Diciamo Questo è il Massimale Che farebbe In questo Tot di Di turni E di special Lanciate Ci sta Le Quasi un anno Tra l'altro Che ci passa 8.280 Per 5 Per 1.1 1.1 1.1 Grazie Che a questo punto Si poteva anche Non mettere 180 Vabbè Quindi stesso Discorso Fatto prima Per L'attacco In sostanza Se prendiamo 10 orb Siamo A 680 Per cento Di Attacca Endef Il grosso Di questo PG Chiaramente È Tutte le Le situazioni Relative Alla sua Damage Redaction Del 30% Più quella Extra Del 18 Più l'evasione Che è 18 Più 30 Quindi comunque C'ha entrambe Le chance Sia chance Di evadere Sia chance Di tankare Con la Damage Redaction E poi Abbiamo detto Che Se andiamo Sotto Il 50% Di HP Triggeriamo Un Boost Alla Def Del 50 Calcolare Separatamente Quindi Ammesso Che Per lo stesso Discorso Fatto Per l'attacco Prendiamo 10 Orp Abbiamo Per 7 8 Dalla Special Sicuramente Quei race Defense È solo 20% Quindi Finché Non siamo Sotto Il 50% Di HP E quindi Triggeriamo Quel 50% Di buff Alla Def Da calcolare Separatamente Il Il nostro Vegetone Ad ability Free Con La special Arriva A 426.000 Di difesa Con 48 48 Di damage Redaction Se prendiamo 5 orb E abbiamo Calcato 10 orb Quindi Ce l'abbiamo Già O Comunque Basterebbe Un orb A GL Però A quel punto Le percentuali Della passiva Sono più poche Perché Se abbiamo Preso Meno orb Quindi Non Fantastico Difensivamente Non è Fantastico Nella prima Special Eh Ma Vegetatech C'ha la Guardia Però Deve Vadere Ma Il problema Se qual è Non è che Deve Vadere Perché In realtà Con 48 Per cento Di damage Redaction I pugni Di tank 48 Sarà anche L'evasione Quindi È come Se avessi Un 50 Per cento Di evadere E Deve Staccare Più che Altro C'ha Kaioken Anche La difesa Però È solo Del 20 Per cento Quindi Ammesso Come abbiamo Calcolato Prima Gli addition All'attacco Possiamo Fare Tre special In un turno Noi Possiamo Arrivare In questo turno A 1.2 Per 1.6 A 5.68 In un turno Al secondo turno Se fa sempre Tre special Arriverà A Diviso 1.6 Per 2.2 A 7.81 Una volta Arrivata A questa Passiva A questa Percentuale Di difesa Se riusciamo A triggerare Quel Def 50% Da qualcosa Paralent Per 1.5 Per il resto Della battaglia Questo Leggetto Avrà Dai turni Seguenti In poi Sempre Se abbiamo Fatto Sempre Tre special Oltre Un milione Di difesa Ma lasciamo Perdere Il resto Però Oltre Un milione Di difesa Con Tutta Quella Damage Redaction La chance Di poter Evadere E poi Per ogni Special Andrà Sempre Ad aumentarsi 20% Di Attacca Indef Quindi Diviso 2.2 Che è quello Che abbiamo Calcolato Prima Per 2.4 Da una Special 1.2 Ci mette Un po' Ci mette Un po' Però Ci sta Queste sono Le stats Of free Però Sempre E Sempre Calcolando Che ha preso Le 10 orb Un po' Un po' Grazie.